Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipili e in tutta la rete autostradale toscana. Sulla Fipili restringimento di carreggiata nel tratto tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina per lavori in corso, possibili disagi per la viabilità. Ancora in Fipili tra la diramazione Pisa e Cascina in direzione Pisa, c'è un veicolo fermo in avaria. In A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna ci sono materiali dispersi per perdita accidentale. Ricordiamo che fino al 15 aprile è in vigore l'obbligo di catene a bordo l'uso di pneumatici invernali su autostrade, superstrade, statali ed extraurbane. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!